E' tornato a trovarci il sottosegretario alla salute Andrea Costa, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi per l'invito. Ecco, facciamo un po' al punto della situazione perché a leggere un po' i giornali, non soltanto di oggi, in questi giorni si scrive, si legge molto di quarta ondata. È davvero così dai vostri dati? Io credo che dobbiamo affrontare i prossimi giorni e le prossime settimane con prudenza sì, con senso di responsabilità sì, ma con paura no. I dati ci dicono che i vaccini reggono bene nei confronti anche della variante Delta. Ricordiamo che chi si vaccina evita nel 97% dei casi l'ospedalizzazione e nel 98% dei casi la terapia intensiva. Quindi dobbiamo essere consapevoli che oggi abbiamo lo strumento del vaccino. Dobbiamo continuare in questa campagna vaccinale. Tra l'altro oggi sarà una giornata importante perché supereremo, arriveremo al 60% di immunizzati per quanto riguarda la platea vaccinale. Quindi dobbiamo assolutamente proseguire. Ovviamente, ripeto, con prudenza ma con paura no. Non dobbiamo confondere i contagi con gli ospedalizzati. Questo credo che sia una riflessione che dobbiamo fare con attenzione e non dobbiamo trasmettere messaggi, a mio avviso, di paura. Sottosegretario, a proposito di vaccini. Ne parlavamo anche poco fa Israele che fa da apripista con la terza dose del vaccino. In Italia che tempi ci sono per andare, perché ci sembra di capire che questa sia la strada, in quella direzione? Su questo ovviamente la politica sta aspettando quelle che saranno le indicazioni scientifiche. La nostra comunità scientifica sta lavorando e sta elaborando le evidenze scientifiche. È presumibile che si arriverà a una terza dose. Si tratta di capire quale sarà la scadenza per effettuare questa terza dose. È chiaro che qualora dovesse esserci questa necessità dovremmo iniziare con le fasce più deboli, con gli anziani, con i fragili. Però dobbiamo dire che la struttura è pronta e quindi ci stiamo preparando e siamo assolutamente preparati per affrontare anche la terza dose. Ripeto, aspettiamo indicazioni scientifiche precise per poi attuarla e declinarla nel piano operativo. Quindi come dire, la macchina vaccinale, gli hub, i medici, gli infermieri sono rodati. Si tratta qui eventualmente di ripetere lo stesso copione che è stato fatto da marzo in poi, partire dai più fragili, dai più anziani e riprendere da lì. Parliamo dei più giovani invece, perché siamo al 30 di luglio, tra neanche un mese e mezzo le scuole riapriranno. Ci sono dei nodi importanti, devono essere vaccinati tutti gli insegnanti, devono essere vaccinati i ragazzi, parliamo ovviamente di quelli per la cui età c'è già il vaccino sotto i 12 anni, sappiamo che non c'è ancora. E poi l'importantissimo nodo trasporti. Che notizie possiamo dare sul comparto scuola e annessi? Non c'è dubbio che riprendere l'anno scolastico in presenza è un obiettivo che non possiamo fallire, non possiamo non permettere ai nostri ragazzi di andare a scuola in presenza, perché la scuola significa non solo un luogo di apprendimento, ma significa un luogo di formazione e in tante realtà la scuola è anche inclusione sociale. È chiaro che dobbiamo partire ovviamente dalla vaccinazione del personale scolastico. Sotto questo aspetto oggi abbiamo ancora circa 200 mila concittadini che non si sono vaccinati. Noi abbiamo chiesto alle regioni di farci avere i dati precisi. Ci confidiamo nei prossimi giorni attraverso un'opera di sensibilizzazione di poterli vaccinare. È chiaro che qualora il problema dovesse continuare a essere presente, dobbiamo anche prevedere l'ipotesi di introdurre l'obbligo vaccinale per questa categoria. Per quanto riguarda i più giovani, dobbiamo sottolineare certamente un dato importante. Considerato che la vaccinazione dei più giovani è iniziata da poco, a oggi comunque il 30% dei ragazzi dai 12 ai 19 anni ha già ricevuto la prima dose. Dobbiamo continuare. Io credo che dobbiamo portare i vaccini a scuola. Noi abbiamo fatto una proposta proprio ieri. Io credo che all'interno dei nostri complessi scolastici bisogna prevedere dei punti di vaccinazione. Tra l'altro qualche anno fa nelle nostre scuole già si vaccinava. Questo lo si potrebbe fare dal 30 di agosto al 15 di settembre. È una vera e propria campagna di vaccinazione all'interno delle scuole. Credo che sia anche un messaggio bello, positivo, di andare in mezzo ai ragazzi all'interno delle scuole. Ripeto, la vaccinazione dei più giovani è importante perché se è vero che un giovane contagiato, le evidenze scientifiche ci dicono che non subisce probabilmente conseguenze gravi, ma vaccinare i giovani significa non permettere più al virus di circolare e quindi non permettere al virus di generare nuove varianti e non ce lo possiamo permettere. Per quanto riguarda i trasporti, c'è un tavolo aperto con le regioni. Nelle prossime settimane verranno fatte delle scelte. È chiaro che dobbiamo prevedere degli investimenti, dobbiamo potenziare il servizio di trasporto scolastico e dobbiamo garantire l'accesso in sicurezza ai nostri ragazzi. Sottosegretario, Green Pass sul posto di lavoro. Rispetto all'ipotesi, alla proposta avanzata inizialmente da Confindustria, qualche settimana fa ormai, noi leggiamo spesso interviste di imprenditori, di datori di lavoro che dicono io pagherò a partire da settembre lo stipendio per sei mesi ai miei dipendenti che non hanno il Green Pass e poi resteranno a casa. Fanno bene? Io colgo l'occasione per fare due rapidissime riflessioni. Innanzitutto il Green Pass è uno strumento che garantisce la libertà e non la comprime. Il Green Pass ci permette di proseguire in questo percorso di ritorno graduale alla normalità e tra l'altro il Green Pass è uno strumento al quale gli italiani si sono già abituati perché oggi oltre 50 milioni di Green Pass sono già stati scaricati dalla piattaforma. L'80% degli italiani è favorevole al Green Pass quindi certamente è uno strumento utile di garanzia che ci permette una tracciabilità e ci permette di gestire l'epidemia. Per quanto riguarda i luoghi di lavoro io credo che se continuiamo in un'opera di sensibilizzazione sia interesse dei lavoratori stessi arrivare alla vaccinazione. Dobbiamo comprendere che vaccinarsi significa non solo mettere in sicurezza la propria vita ma anche la vita degli altri. Per quanto riguarda l'iniziativa di Confindustria io credo che siano iniziative alle quali si può giungere a una soluzione. Occorre passare a mio avviso attraverso un percorso condiviso ma credo che tutto sommato possa essere una proposta assolutamente sostenibile. Noi dobbiamo uscire da questa pandemia e per uscire dalla pandemia dobbiamo arrivare all'immunità di Grecia cioè dobbiamo superare l'85% dei vaccinati. Questo è un obiettivo che dobbiamo raggiungere con qualsiasi mezzo. Sottosegretario Costa, abbiamo solo un minuto ma ci tengo a chiederle questo perché tra le varie riaperture mancano ancora all'appello le discoteche. Con il Green Pass si può fare qualcosa? Guardi, io ritengo che le discoteche debbano avere assolutamente una risposta perché quando parliamo di discoteche non dobbiamo fare l'errore di pensare solamente a luoghi di divertimento ma dobbiamo avere la sensibilità che stiamo parlando di oltre 3.000 attività del nostro paese con 100.000 addetti con un fatturato di 2 miliardi. A oggi la posizione del governo è quella di non aver indicato una data di riapertura di aver preso un impegno per un sostegno economico ma sono convinto che il maggior sostegno che possiamo dare a questo comparto è quello di farli tornare a lavorare come abbiamo fatto per gli altri. Io mi auguro e confido che il Green Pass nel momento in cui lo riconosciamo come uno strumento come un mezzo che garantisce la sicurezza, la ripresa di altre attività credo che lo si possa applicare anche per le discoteche e mi auguro che possa proseguire questo percorso di confronto per dare una risposta anche a questo settore. Dopo Ferragosto, sottosegretario per le discoteche, riusciranno ad aprire ad agosto? Io mi auguro il più in fretta possibile, ovviamente dobbiamo valutare giorno dopo giorno quello che è lo scenario con cui ci dobbiamo confrontare ma io confido che possa arrivare una risposta, ripeto, anche per questo comparto perché parliamo di un comparto economico. Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, grazie per essere stato con noi torniamo a sentirci presto, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro.